Eccoci qua, ben ritrovati amici di Rete7. È iniziato un nuovo mese, inizia una nuova settimana, settimana che si preannuncia con un'alta arena termica probabilmente. Comunque staremo a vedere. Intanto avremo nuvole in transito, con pochissime gocce di pioggia più che altro sui settori più settentrionali, limitrofe, rilievi, vedete, più settentrionali del nord orientale, del Piemonte, altrove nuvole, nuvole in transito ma senza precipitazioni. Una giornata quindi tutto sommato autunnale anche se con maggior copertura nuvolosa rispetto alla giornata di domenica e con pochissime piogge come detto soprattutto sui rilievi. Temperature minime in lieve flessione, massime invece che non faranno registrare grandi cambiamenti, rialzo. Io davvero ho concluso, non ho altro da aggiungere, ancora buon inizio di settimana, buon ottobre a tutti, arrivederci.